I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti poco dopo le 23.30 di domenica a Villa Franca di Verona per soccorrere due persone rimaste bloccate all'interno della gabbia di una giostra del Luna Park allestito nelle vicinanze del castello Scaligio in occasione della festa del paese. I due giovani erano saliti sulla trazione, una fionda meccanica che sparava una capsula metallica a decine di metri di altezza. All'inizio tutto bene, ma nella fase finale dell'oscillazione qualcosa è andato storto e la gabbia è rimasta bloccata a circa 20 metri di altezza. I vigili del fuoco, intervenuti con tre automezzi e nove unità, hanno raggiunto la capsula, hanno imbragato gli occupanti e solo dopo hanno sbloccato le sicurezze che mantenevano ancorati gli stessi e i seggiolini. Le operazioni di soccorso si sono concluse riportando a terra con un'autoscale malcapitati. I giovani affidati alle cure del 118 sono stati precauzionalmente trasportati all'ospedale di Bussolengo per un controllo. Il lavoro dei vigili del fuoco si è protratto fino alle 2 per effettuare alcuni controlli sulla giostra, sul posto anche polizia locale, carabinieri e il sindaco del paese.